benvenuti a tutti in questa nuova puntata su episteme.com il sapere oltre il mainstream abbiamo come ospite anzi come gradito ospite marco maculotti direttore del sito axis mondi e del libro che stasera andremo a presentare un libro che io l'ho trovato molto interessante soprattutto perché svela molti misteri e per gli amanti della serie in questione stiamo parlando di true detective sicuramente sarà un testo che non può mancare ad ogni fan stiamo parlando del suo carcossa svelata appunti per una lettura esoterica di true detective quindi stiamo parlando di true detective una serie tv americana che ha riscosso molto successo proprio perché si differenza mi avviso poi magari marco ce lo spiegherà più nel dettaglio diverse cose che non è non si è consoni a vedere generalmente nelle serie tv americane ovvero una serie che come vedremo nella prima domanda affronta tematiche molto profonde e soprattutto la prima serie perché malgrado la serie true detective sia strutturata in diverse stagioni solo la prima ha questa sfera questo questa pathos di cui andremo a trattare noi stasera mentre le altre assumono più un aspetto commerciale e poliziesco la prima domanda è ci puoi dire qual è appunto la filosofia di fondo di true detective prego bene grazie nella presentazione dell'introduzione hai detto bene a sottolineare che la prima stagione si distingue dalle altre due per questo questa prospettiva differente non che non sia poliziesca la prima stagione perché ovviamente c'è una struttura narrativa che polizia poliziesca e thriller come della seconda e terza stagione e la differenza è che come ammesso dal regista nick pizzolatto che è un regista americano di origini italiane e ammesso di essersi ispirato moltissimo per la prima stagione a un testo di thomas ligotti che è un autore americano tuttora in vita è considerato uno tra i più rilevanti dell'orrore sovrannaturale della narrativa di stampo lovecraft piano infatti poi avremo modo di vedere che tramite ligotti la serie viene influenzata anche dall'orrore cosmico di lovecraft dal pessimismo cosmico di lovecraft il discorso che io cerco di fare nel libro è che tramite ligotti la prima stagione si è stata influenzata da una serie di autori e soprattutto di suggestioni di tipo mitico di tipo esoterico è che ligotti appunto passa pizzolato tramite citando determinati autori tra cui appunto lovecraft tra cui shoran tra cui schopenhauer vediamo che nel film raskol cioè il detective protagonista in questa sua stanza da letto completamente vuota adesso questo sorta di comodino basso c'ha le upanishad indiane no che hanno ispirato appunto il mondo come volontà e rappresentazione di schopenhauer e infatti perché si distingue dalle altre due stagioni la prima proprio perché tramite queste suggestioni ligo esoteriche che vengono importate dal testo di ligotti che si chiama la cospirazione contro la razza umana si tratta dell'unico è un bellissimo testo che è stato tradotto da assaggiatore in italia e tramite appunto questo questo testo di ligotti vengono veicolate all'interno della serie tutte queste suggestioni tramite il personaggio di raskol che a differenza del collega marty art da una visione iniziatica potremmo dire dalla realtà una visione io analizzo nel libro anche questo questa questa prospettiva che il personaggio di raskol in qualche modo possa essere visto come una sorta di sciamano contemporaneo di sciamano urbano brevissimo riassunto la sua vita è stata scandita da determinate tappe che sono sempre state drammatiche come la perdita anzitempo della figlia come un utilizzo smodato di droghe quando era nella sezione antidroga e tutte queste questi drammi e questo è anche in questo passaggio attraverso la tossicodipendenza potremmo dire l'ha portato a sviluppare un'idea del mondo e del cosmo e dell'esistenza umana che va oltre una mera visione che può avere il collega per esempio marty oppure gli altri personaggi del serial quindi attraverso la forma mentis la welter stang come io scrivo nel libro di raskol nick pizzolato riesce a portare in questa serie tv che ha una struttura poliziesca delle suggestioni filosofiche esoteriche che in realtà se noi analizziamo la struttura narrativa della storia dobbiamo andare a cercare con il lanternino nel senso che ogni ogni puntata delle otto del serial ci sono vari vari indizi ci sono dei dialoghi precisi che si distaccano comunque dai fatti che compongono la narrazione vera e propria degli eventi e che comunque distaccano la prima stagione dalla seconda soprattutto ma anche dalla terza perché oltre appunto alla narrazione dei fatti e quindi gli scontri con la polizia con i criminali questo genere di cose c'è anche dietro un sostrato narrativo che come vedremo si rifà sia all'esoterismo di fino ottocento inizio novecento sia la lettura fantastica con la menzione di carcosa del rain giallo che sono dei personaggi e delle e dei luoghi immaginari che hanno inventato fondamentalmente degli scrittori di fino ottocento quali robert chambers e ambrose beers che poi influenzeranno a sua volta anche appunto hp lovecraft se si infatti perché quello che io ho notato di più non solo nella serie che ho rivisto più volte ho comprato anche il dvd e dopo prima di scoprire il tuo libro poi successivamente anche il tuo libro proprio che non solo i personaggi come detto benissimo tu e dialoghi che sono sembrano quasi delle citazioni filosofiche perché quando rust parla che a mio avviso sono i momenti più belli fa sempre discorsi profondi filosofici esistenzialisti quasi cosmici a differenza del compagno che invece possiamo classificarlo il classico americano bianco che fa il suo lavoro c'è i suoi piccatucci come l'alcolismo che tradisce la moglie però c'è i figli però vuole essere un buon padre che non è accettato bene dalla famiglia della moglie e quindi diciamo tutti i problemi tipici della classica famiglia media americana però anche l'ambientazione a me ha colpito e affascinato molto perché non è che siamo nella classica america bene e neanche nel diciamo nel nell'america profonda ma siamo proprio nelle zone più povere più diciamo più oscure più degradati di tutti gli stati uniti tant'è che è frequente vedere case patiscenti roulotte semi abbandonate povertà dilagante non solo in senso economico ma povertà proprio umana povertà povertà morale povertà anche di comportamenti povertà anche di atteggiamenti e di portamenti delle persone che vivano lì rasti infatti parla di cloaca no una cloaca che fluttua paragonando alla terra però guardando anche il posto dove abita vedendo che sono tutte queste paludi queste atmosfere che vanno dal nero al grigio queste zone anche che magari sovrastano il verde poi dentro il verde ci sono queste paludi oscure tutte queste ramificazioni e queste case abbandonate in mezzo ai boschi quindi e anche mi ha ricordato molto un'ambientazione molto nichilistica molto da deserto che avanza niciano no in cui questi due detective che potrebbero essere il tao no lo ying e lo yang che fanno i loro casi in questa landa desolata in questa terra di mezzanotte come direbbe heidegger no dove sembra che tutto è decaduto tutto è marcio tutto è potrefatto e gli stessi come dice lui gli stessi sentimenti che arastano anche quando parla dice sento la psicosfera sente odore di alluminio di ferro proprio una sensazione quasi appunto di disgusto no come anche i personaggi ambigui che vediamo nella serie no da dal poliziotto benestante eh che sta in magari in un mega villone a e nega la condizione diciamo degli abitanti più poveri a il mega magnate eh cristiano della chiesa locale che poi ha tutti i suoi eh tutti i suoi misteri dietro no eh tutti i suoi eh enigmi arcani che dopo magari avrai modo di di spiegarci sì eh e anche un'altra cosa importante eh a mio avviso e poi concludo è eh il fatto anche delle delle persone con cui parlano per cercare il colpevole che parlano magari con quello affetto da una grave malattia dal molestatore seriale dal fanatico cristiano eh dalle prostitute minorenni quindi è proprio per me un'ambientazione tipica eh di questi autori pessimistici in questa ambientazione eh nichilistica quindi per me è stato scelto bene non solo i dialoghi adatti alla eh ambientazione eh ma anche i personaggi che si barcamenano in questa in questa land e fa vedere i diversi aspetti eh di questa società decadente vale hai messo tantissima carne al fuoco con questa domanda quindi proverò a riassumere brevemente tutti i punti che hai toccato dicendoti la mia opinione eh innanzitutto il luogo dove si svolge la prima stagione di True Detective che è la Louisiana eh la la Louisiana nella serie eh assurge a vero e proprio protagonista perché come hai detto tu il luogo in in questa prima stagione rispecchia proprio questo pessimismo cosmico che avvolge i personaggi eh che avvolge innanzitutto Rust ma poi anche tutti gli altri personaggi che come hai detto tu sono stati toccati dalla dalla dannazione che eh che riguarda tutti quelli che entrano in contatto con il re giallo e la sette della palude eh questa sette della palude eh nominalmente deriva da un racconto di Lovecraft il forse il più famoso racconto di Lovecraft cioè il richiamo di Cthulhu del ventisei in cui si parla proprio di questa sette della palude nelle paludi proprio della Louisiana quindi il luogo è lo stesso eh che fanno dei sacrifici umani eh per far ritornare questa loro divinità cioè Cthulhu che eh aspetta di svegliarsi quando le stelle torneranno al al loro posto al posto giusto eh qui c'è tutto un ragionamento esoterico che io vado a fare nel libro in connessione tra Cthulhu era in giallo e altre divinità ehm dell'antichità come Saturno di orè dell'età dell'oro che poi si pensa che con l'avvento dell'età dell'argento eh cade in uno stato di coma viene cacciato nel tartaro da Giove con i titani e da questo da questo tartaro lui attende che le stelle ritornino al posto giusto a distanza di ventiseimila anni c'è il ciclo precessionale del cosmo per ritornare re e quindi il questa prospettiva eh mitica riguarda sia Saturno nel mito greco romano sia il re in giallo nel vediamo per esempio ehm reghi le dune la famosa frase che dice ehm alcune mattine intravedo già il piano infernale eh son pronto all'ascensione non reghi le dù scusami ehm ehm ero ero childress ehm però già la Louisiana come posto quindi che è un posto di limite eh e che anche veicolo abbiamo detto questo pessimismo cosmico dei personaggi e poi diventa anche spia la Louisiana in sé eh come luogo appunto mh dannato in un certo senso eh pensiamo a queste all'uragano Catrina che per esempio viene menzionato nella serie viene fatto vedere che a distanza di qualche anno dall'indagine dei luoghi che prima esistevano nelle campagne della Louisiana non esistono più perché è passato l'uragano Catrina però vediamo la il centro lì del del reverendo Tattolto completamente distrutto e rimane solo eh questo questo murales con con l'immagine della ragazza sacrificata con le colna di cervo quindi quella è l'unica cosa che rimane dopo il passaggio del dell'uragano che quindi ehm metaforicamente può anche intendere il passaggio del re in giallo il passaggio della setta della palude eh e infatti come hai detto tu tutti i personaggi che sono stati toccati eh dalla dalla dannazione di questi eventi eh presentano dei grossi problemi psichiatrici per esempio sono degli accumulatori seriali come lo stesso Errol Childress per esempio fa vendere la casa che è piena eh di oggetti di pile di riviste di libri nella sporcizia più assoluta ma anche altri personaggi che i due detective vanno intervistare presentano appunto dei dei anche nelle prigioni no quando pensiamo eh a quei mh a quei personaggi che vengono intervistati che sono stati in carcere con eh Reggie Ledoux con Childress questi eh si vede che sono stati toccati da da una maledizione come se fosse uno stigma un marchio a fuoco no che li caratterizza e ehm e però questa eh questa cosa viene 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 notata viene capita solo da da Rust Cole non da Marty Hart e e anche per esempio nelle quando eh lui li sottopone agli interrogatori lui sa che eh che tasti andare a toccare perché lui le ha vissuti in un certo senso oppure lui ha passato eh questa iniziazione della mano sinistra potremmo dire no e poi una cosa scusa se ti interrompo un altro prego prego proprio su questo argomento eh interessante anche le due come hai detto tu prospettive perché se un Rust Cole diciamo intravede eh l'omicidio di quella ragazza in un mondo che è un mondo esoterico che è un mondo iniziatico che è un mondo diciamo occulto dall'altra parte vediamo che eh i cosiddetti per dirla eh in parole sempre i non iniziati se vogliamo mettere le due carature eh vediamo che invece la banalizzano a semplice omicidio un altro dice una semplice prostituta che magari eh ha fatto arrabbiare il suo pappone l'altro dice erano dei satanisti erano dei dei drogati quindi vediamo anche queste diverse di prospettivo un Rascal che capisce subito che i simboli la la posizione della ragazza e gli oggetti utilizzati fanno parte tutto di un rito iniziatico ben specifico che si ricollega come hai detto tu ad antiche credenze ad antiche divinità e antichi culti mentre gli altri lo banalizzano proprio perché non fanno parte di quel mondo eh ha semplice diciamo questione sociale no eh e lo stigmatizzano addirittura lui come un passo eh per per andare in profondità no per dire cerchiamo qua invece di qua lo quasi vediamo che lo ghettizzano lo lasciano quasi da parte tant'è che un punto vediamo eh lui cerca di fare le 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 indagini per conto suo attapestando tutto il suo diciamo ufficio con simboli numeri eh date quindi proprio come un vero pitagorico no che tra i numeri riesce mentre dall'altra parte abbiamo quelli lì che continuando su un aspetto veramente sociale o poliziesco non riescono proprio a cavare un ragno dal buco sì dunque è vera la distinzione tra chi sai chi non sa che tu hai chiamato gli iniziati non iniziati nel senso che come sottolineo anche nel libro la skull interpreta appunto l'iniziato e e marty art di contro il non iniziato tanto è vero che quando nelle scene in cui ci sono questi monologhi di ras call che sono delle quasi citazioni dalla cospirazione contro la razza umana di ligotti eh la scena che noi vediamo è proprio quella di una sorta di maestro iniziatore eh che mh passa dei concetti diciamo così eh al al collega che tuttavia non lo vuole ascoltare si rifiuta di anche di prendere in considerazione di queste ipotesi perché a suo parere ehm vanno troppo oltre quello che un uomo potrebbe sopportare di conoscere perché ovviamente tutta la realtà cadrebbe eh quell'ipotesi di ras call che poi si si riscontra a vera è quella che non siano solo dei pazzi o dei drogati semplicemente quelli della setta della palude che adorando il re in giallo compiono questi sacrifici rituali ma che siano effettivamente anche delle persone altolocate e infatti vediamo che come hai detto tu eh mentre lui cerca di indagare unendo tutti i tasselli in realtà il il procuratore Tattol che è cugino del reverendo che eh cura le 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 scuole religiose da dove vengono addescate le prede eh il il procuratore manda della gente del suo staff per dire indaghiamo noi tu non ti preoccupare per insomma insabbiare la questione quindi questo è un altro dei punti più importanti di di True Detective che va oltre la la visione di Ligotti nel senso che eh ci aggiunge anche un elemento di di attualità comunque eh vale a dire quella del di una setta più o meno diffusa nella Louisiana e nell'America del Sud in generale eh che riguarda appunto eh l'adorazione di questo re in giallo e eh questa adorazione del re in giallo e questi riti sacrificali in realtà seguono eh un tracciato ehm il tracciato delle delle scuole religiose che il reverendo Tattol eh ha fondato in tutta questa area no e quindi vediamo che c'è una connivenza poi anche tra la polizia e i militari e invece i religiosi eh ora io di questa cosa ne parlo nel primo capito eh soprattutto parlo dei cosiddetti eh satanic ritual abuses che sono avvenuti nell'America degli anni Ottanta o che alcuni dicono che siano accaduti perché in realtà poi se andiamo a studiare la storia giuridica di questi casi di questi casi di sacrifici rituali e di adorazione eh a divinità demonia che tutto quanto che si sviluppava all'interno di scuole eh residenziali o di scuole militari nell'America degli anni Ottanta con questo personaggio il cui nome salta sempre fuori negli atti dei processi che è Michael Achino fondatore della chiesa di Seth e noi vediamo che in True Detective di questo si parla effettivamente se noi andiamo a leggere eh gli atti del processo di questi casi avvenuti negli anni Ottanta e poi andiamo a vedere quello che succede eh nelle scuole religiose di del reverendo Tatton in True Detective che vengono trovate queste foto di bambini narcotizzati ehm o violentati ovviamente e anche eh queste maschere anezomorfiche che ritornano nelle foto dei partecipanti al rito eh noi io l'ho messa da una parte in relazione con questi casi che si pensa siano avvenuti negli anni Ottanta in America dall'altra e al cosiddetto al famoso Bohemian Grove eh che è un lo spiego brevemente per chi non avesse mai sentito questo questo nome è un una zona di bosco di centinaia di ettari che si trova in California e io la collego alla famosa frase che viene detto in True Detective c'è un posto a sud dove uomini ricchi vanno ad adorare il demonio perché mh c'è in questo luogo che è di dominio pubblico se voi cercate Bohemian Grove Bohemian Club trovate tutto trovate le foto fin dagli anni venti del secolo scorso qui si sta parlando di un posto dove eh i potenti della terra i nomi ci sono nomi e cognomi cioè ci sono persino sulla pagina Wikipedia per dire quindi non è né comportismo né ehm teorie balzane campate per aria comunque ogni anno i potenti dell'America e della terra si trovano due settimane in questo Bohemian Grove eh in questo bosco di sequoie millenarie dove precedente tra precedentemente tra l'altro i nativi americani facevano dei rituali strani anche quelli sacrificali per quel poco che se ne sa eh comunque ci sono se voi cercate ci sono le foto di questo famoso rituale che si chiama la cremazione della preoccupazione cioè cremation of care l'arsione della preoccupazione che è un rito ehm carnevalesco potremmo dire che ricorda da molto vicino i saturnali romani cui il eh l'esponente diciamo umano antropomorfo del dio Saturno viene alla fine sacrificato alla fine eh di questo rituale ed effettivamente è quello che noi vediamo in questo rituale la cremazione della preoccupazione in cui questo fantoccio viene dato alle fiamme tra grida di giù di giubilo e e quindi anche nella serie tra l'altro vengono nominati i saturnali come eh una delle principali influenze di questi rituali della sette della palude e vengono viene nominato anche il martedì grasso per esempio che a New Orleans è molto particolare perché è un connubio tra le tradizioni folcloriche europee importate dai coloni e quelle del degli schiavi degli schiavi di colore e quindi c'è una commistione tra il la tradizione folclorica carnevalesca del dell'Europa medievale invece rituali più oscuri come quelli del del voodoo o del udo come si chiama in quell'area della luisiana passiamo ora alla seconda domanda che è proprio su questo aspetto volevo chiederti dopo aver visto la filosofia di fondo di true detective l'aspetto a mio avviso più importante del tuo libro e l'aspetto ovviamente esoterico ci puoi spiegare appunto gli aspetti più importanti che hai visto di carattere esoterico nella serie come ad esempio la simbologia o la raffigurazione della della ragazza su cui indagano raste il suo collega e la figura ad esempio di quella sorta di dio pan ritrovato nella chiesa esatto o i tatuaggi chi ha il cattivo nella 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 serie allora la valenza simbolica di true detective è evidente fino appunto dalla prima scena che nomina tutta è proprio la prima scena della prima puntata i due detective vengono chiamati in questo in area rurale e in queste campagne sconfinate sotto una quercia che già è un albero molto simbolico perché è l'albero noi ricordiamo dei dei boschi sacri in cui i druidi compievano i sacrifici umani e questo il bosco di querce noi troviamo questa querce enorme e al di sotto questa donna nuda con questo palco di corna cervine e questo tatuaggio sul corpo sulla schiena a forma di di spirale una spirale triangolare ora l'aspetto simbolico in true detective a mio parere lega la concezione filosofica di di raskol che è derivata appunto abbiamo detto sia da ligotti e tramite ligotti da schopenhauer da shoran e da lovecraft e altro del genere lega con la dimensione appunto ritualistica mitica a cui si rifà questa setta perché l'aspetto filosofico la prospettiva filosofica che regge tutta la prima stagione si basa sulla maledizione del tempo potremmo dire ed è l'eterno ritorno è una maledizione di cui solo rascola è pienamente consapevole perché gli altri personaggi la subiscono e basta c'è una frase illuminante di marty art nel collega di rascoli in una mi sembra nella quinta puntata che dice padre tempo fa di noi ciò che vuole e io ho sempre avuto l'impressione che il tempo fosse non alle mie spalle ma davanti a me quindi come se la sua vita venisse venisse anticipata da questa potenza prima ancora di poterla vivere liberamente perché io dico che questi simboli collegano la visione filosofica e questa sorta di dannazione dell'eterno ritorno e di prigione temporale e alla dimensione appunto rituale della setta perché se noi andiamo ad analizzare nelle antiche tradizioni io ho analizzato europee quelle indoeuropee se noi andiamo ad analizzare queste tradizioni vediamo che il dio del tempo è sempre raffigurato con queste corda di cervo persino l'antico cronos greco le raffigurazioni più antiche prevedevano queste corda di cervo e stanno appunto a veicolare l'idea di un potere rigenerativo perché come sappiamo il cervo ogni ogni autunno perde le corna e questo palco di corna insanguinate poi gli ricrescono nuove ogni primavera quindi le corna di cervo fin dall'antichità hanno veicolato questo significato di morte e di rinascita che interessa tutta la manifestazione cosmica e spazio temporale quindi oltre che che cronos non possiamo menzionare altre divinità come lo yama degli induisti come erlic khan dei turco mongoli insomma ci sono una serie di divinità che sono legate al tempo che esibiscono questo palco di corna cervine ma oltre che al tempo sono anche legate al regno dei morti al regno dell'aldilà e infatti noi vediamo che nella serie quando rascol nell'ultima stagione riesce ad accedere a questa dimensione più sottile nel momento del coma quando va in come in seguito allo sconto con error childress lui riesce ad raggiungere questa dimensione al di fuori dello spazio tempo e riesce incontrare lo spirito della figlia precedentemente di partita e lui afferma che poi una volta giunto in questo in questa dimensione sentiva un certo punto che era tutto amore non c'era più dolore non c'era più una divisione tra soggetto e oggetto come cerco di analizzare nel libro anche questo questa suggestione deriva da un capitolo mi sembra il capitolo 9 della cospirazione contro la razza umana di thomas rigotti in cui viene vengono citati degli estratti di testi di saggi di persone che hanno vissuto l'esperienza di premorte e viene descritto appunto questo ingresso in un'oscurità più 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 profonda più nera dell'oscurità che noi tutti conosciamo e che viene messo in relazione appunto con questo al di là con questa quarta dimensione che sarebbe appunto questo regno questa carcosa cosmica perché c'è una carcosa terrena nella serie che è quella dove vive ero childress dove vengono fatti rituali sacrificali e poi c'è questa carcosa cosmica che in realtà è la carcosa vera e propria dove dove sta il re giallo metaforicamente nel libro cerco di spiegare questa mia suggestione è molto complicata però anche fare come ho già cercato di anticipare con il mistero del re dell'età del dio re dell'età dell'oro appunto questo re in giallo che alla fine dei tempi dovrebbe ritornare a governare la manifestazione spazio temporale però questo presurrebbe che il tempo spazio come noi lo conosciamo finisse finisse di colpo e tutta una manifestazione cosmica ritornerebbe appunto nella temporalità delle origini nel libro vado anche ad analizzare alcune alcuni passaggi soprattutto dei chic dei racconti del ciclo giallo di chambers su carcosa e sul rain giallo perché come intrude detective anche i personaggi dei racconti di chambers sembrano ricordare in qualche modo questa dimensione atemporale preter temporale che loro collegano a carcosa e al rain giallo e sentono da una parte una specie di nostalgia edenica di questo luogo però dall'altro sentono anche come un terrore inspiegabile come se dopo aver fatto un dopo aver scoperto questa rivelazione la loro vita sia ormai rovinata se ora siano ormai dei dannati e con questo famoso marchio che appunto nella serie tv e questo questa spirale che viene trovata sul sul corpo della vittima ma anche i tatuaggi per esempio e di regghi le due regghi le duccia questa spirale poi c'è un triscele formato da 3 6 e anche lì ovviamente una menzione un richiamo all'apocalisse numero della bestia e poi c'è anche queste svastiche questi questi simboli che sempre ricordano appunto il passaggio delle stagioni e ritorno dell'eterno l'eterno ritorno praticamente e tant'è che appunto a quello che hai detto volevo aggiungere una piccola postilla sul fatto che appunto dice in una famosa frase dice guarda quando guardi a lungo nell'abisso l'abisso guarda dentro di te e questo per me descrive perfettamente rascol che è vissuto sempre nell'abisso come detto tu che l'ha portato l'ha temprato in questa sua esistenza tragica e che l'ha portato a vedere il mondo da questa prospettiva da questa rappresentazione direbbe schopenhauer e dall'altro vediamo che quando fa l'interrogatorio appunto dice la sua veltanschauung cosmica dicendo appunto che se potessimo guardare l'universo da una dimensione a spaziale a temporale vedremo che non è lineare come la storia ci insegna quindi che c'è un continuo progresso verso l'alto infinito che è iniziato col tempo e poi si è dilungato quello spazio ma in realtà che spazio e tempo vengono schiacciati compressati e lo spazio tempo sarebbe lui dice un go kart e che quindi tutta l'umanità tutto il mondo fenomenico sensibile sarebbe appunto la ruota del samsara no un eterno giro boro che dove dice infatti anche lì una prospettiva della clessidra sempre di nice che dice quello che fai in questa vita l'avrai fatto sicuramente nella vita precedente e lo rifarai nella vita infatti lui alla fine diciamo si mette il cuore in pace dicendo che non possiamo cambiare il nostro destino che ciò che noi facciamo in questa vita lo rifaremo altre volte quindi paragonando anche ai suoi traumi dice prende consapevolezza che i capiteranno in eterno e che il mondo stesso è lui dice correggimi se sbaglio una porta sfrangata no fa questo questa assonanza di questa bambina rinchiusi in questa stanza sprangata che è la vita che l'uomo che non riesce comunque a uscire paragonando anche alla al suo lutto molto probabilmente della figlia che dice addirittura arriva a dire che è stato un bene che sia morta perché gli ha impedito di essere padre appunto perché lui nelle sue estensioni michilistica ma anche misantropiche potremmo dire pessimistiche oltre a dire che il mondo è una cloaca che fluttua in mezzo allo spazio a dire che tutta l'umanità si dovrebbe estinguere mano nella mano in un'ultima mezzanotte arriva anche a dire che sostanzialmente ogni esistenza e questo lo riprende da schopenhauer dicendo che ogni esistenza sarebbe quasi un crimine cosmico perché si condannano altri esseri viventi alla sua stessa condizione quindi una condizione di sofferenza e di vivere in un mondo permeato dal dolore e dalla sofferenza è fatto in sostanzialmente di un omo minu lupus perenne dove tutti si uccidono null'altro dove capitano eventi bruttissimi eventi deleteri come quelli che affrontano i due detective e quindi qui dice stato quasi un bene che lei non sia mai nata perché in questo modo mi ha impedito di diventare padre e qua vediamo appunto che come detto tu ricorda ricorda appunto schopenhauer quasi come se ne fosse un'esternazione quasi se fosse schopenhauer dei giorni nostri nelle vesti appunto di un detective però anche una sorta di sciamano come veniva definito anche heidegger per il suo linguaggio per i testi che scriveva ma anche come la frase che hai menzionato sulla cloaca e questa è una curiosità che voglio dire nella traduzione italiana viene tradotto come cloaca però il termine che viene utilizzato nel nella traduzione originale in inglese è trita carne e questa denominazione dell'universo come un gigantesco trita carne è essenzialmente gnostica e come anche i punti che sottolineato tu come questa bambina che viene presa come metafora in realtà dell'anima umana che è dannata a rivivere come appunto dei go kart su una pista le dannazioni vita dopo vita l'idea come hai detto tu del tempo che si è visto dall'alto non è lineare ma è un cerchio è anche questa un'idea prettamente gnostica cioè quella del spazio tempo come un uroboro che si muove la coda e quindi che è sempre destinata a ritornare su se stesso generazione dopo generazione è un'immagine che gli gnostici chiamavano rota mundi la ruota del mondo e che appunto ricorda quell'immagine indo buddista indotibetana della ruota del sansara o del bhava la ruota del divenire e anche appunto questa questa sugge questa prospettiva che viene data nella serie dal dei monologhi di rascol che l'anima stessa dell'uomo si è intrappolata come in una prigione di carne che sarebbe appunto l'incarnazione umana è prettamente gnostico ovviamente perché per gli gnostici l'anima una volta risvegliata doveva evadere la manifestazione spazio temporale esattamente come nella tradizione indotibetana del sansara e del nirvana e riprende anche la tradizione platonica in cui il corpo soma è la prigione dell'anima cioè sema sono due termini connessi anche etimologicamente semanticamente eh come abbiamo già detto prima eh tra i due rascol è il è l'iniziato è l'ognostico eh invece il il collega Martiarte è quello che gli gnostici consideravano un dormiente no una persona che per tutta la vita si trascena dietro eh le sue dannazioni i suoi problemi senza in realtà mai risolverle perché non capisce mai in realtà che questi eh questi problemi queste dannazioni sono destinate a ritornare sempre ciclo dopo ciclo ehm scusa un attimo anche perché poi prima che mi dimentichi un'altra cosa interessante infatti come hai detto giustamente tu poc'anzi è il fatto che eh Martin Hart eh addirittura arrivi ad agitare come materialista come ateo come uno che non crede in nulla Rust perché mentre lui diciamo sia contenta di una visione eh di cristianesimo diciamo eh pubblico quindi quello fatto delle delle cerimonie pubbliche delle feste religiose delle feste in casa tipico del cristianesimo eh protestante americano mentre Rust che eh come hai detto tu rappresenta uno gnostico o uno che è un filosofo cioè uno che vuole eh amante della sapienza che cerca la sapienza e eh come iniziato appunto non si accontenta mai di un sapere empirico ma o prettamente eh religioso ma cerca di andare proprio verso anche una metafisica tant'è che volevo aggiungere eh il quella sorta di nulla cosmico in cui lui in coma sprofonda eh ricorda molto anche da come anche l'hai descritto benissimo tu la eh l'iperuraneo platonico no? Che arriva a un certo punto in cui secondo Platone finisce il mondo e inizia questo iperuraneo sede io lo menziono infatti anche l'iperuraneo nel libro appunto sottolineo il mito platonico di Herr no? Che noi sappiamo che in questo mito platonico l'anima arriva eh dopo la morte fisica nel mondo lunare eh e qui appunto ci sono queste due fonti quella di del di lete cioè dell'oblio e quella di mnemosile della memoria e ovviamente nella tradizione platonica bevendo dalla fonte della memoria si riesce ad evadere ehm questo eh ciclo di reincarnazioni perenne invece bevendo dall'acqua dell'oblio ci si continua a reincarnare nel piano sublunare eh esattamente tra le righe quello che viene fatto passare eh con Rascore in questa ultima scena in cui in coma giunge a questo iperuraneo eh e appunto da quel momento torna indietro completamente eh diverso come se fosse un'altra tappa iniziatica del suo percorso perché lì si rende conto che al di là di tutto il discorso del pessimismo cosmico che già aveva maturato negli anni precedenti qua c'è uno step in più cioè eh riconosce che tutto quanto aveva capito è vero effettivamente però c'è modo di trascendere anche questo stato eh di danazione che è prettamente umano ha prettamente a che fare con l'individualismo con l'individualità eh con eh con l'ego ehm uno dei termini che Thomas Rigotti nella sua cospirazione contro la razza umana ehm cita spesso e che viene anche ripreso nella serie televisiva appunto da Rascore è quello di ego death cioè di morte dell'ego di annichilamento dell'ego eh che solo eh solo questa potrebbe appunto portare il personaggio a una comprensione più profonda sia della sua esistenza che dell'esistenza umana in generale e nel suo libro Thomas Rigotti quando parla di morte dell'ego oltre che parlare di esperienze mh con gli superfacenti come accade poi a Rascore nella serie tv e come era accaduto anche biograficamente a Thomas Rigotti negli anni settanta parla anche della possibilità di trascendere eh l'esistenza umana con tutti i suoi problemi con tutte le sue dannazioni eh rifacendosi a delle tradizioni buddiste che lui riconosce come l'unica religione tra virgolette eh che eh può liberare l'uomo perché appunto non gli racconta balle ehm io guarda adesso lo la la riassumo così perché comunque i discorsi che fa sono abbastanza difficili da però comunque nella serie tv viene mh traslato queste questa concezione di Thomas Rigotti per cui vediamo che eh tutti i religiosi che noi vediamo in True Detective sono dei miserabili sono o il reverendo Tattor che organizza eh che anzi che porta avanti perché in realtà la tradizione dei sacrifici deriva da molte generazioni prima di lui e oppure vediamo il predicatore evangelico in quella tenda eh seguito da tutte quelle persone che si credono e si dicono religiose però in realtà ehm dice bene Rascore sono come degli insetti alla fine eh la dimensione religiosa vera e propria che è quella proprio interiore quella di comprensione sacra è proprio solo Rascore che appunto eh nella serie lui stesso si definisce come un agnostico eh come ehm sono mi ricordo scusa non penso che usa la terminologia di Attio lui dice un agnostico pessimista o meglio realista e di conseguenza eh vediamo che in una società come quella occidentale postmoderna perché alla fine eh è questo l'ambito diciamo sociale in cui si svolge da sé fa vedere tutti i fallimenti di questa visione che è da una parte finta religiosa con le scuole religiose che in realtà sono eh ricettacolo dei peggiori crimini e delle peggiori nefandezze e poi anche comunque come modo per tenere sottomesse le persone insomma eh umili cioè noi vediamo che i personaggi religiosi cercano o di rubare soldi o di ehm avere appunto a disposizione eh giovani ragazzi o dei bambini orfani per compiere i loro rituali eh questo è interessante perché come ho già ho già sottolineato nel primo capitolo io parlo anche eh degli scandali di alcuni scandali della chiesa cattolica e della chiesa metodista anglicana ed evangelica in America ehm per esempio c'è quel caso famoso del eh che viene viene esposto in una serie tv uscita qualche anno fa un documento in una serie documentalistica che si chiama The Keepers eh che fa vedere come in America in questa in questo convento di suore eh venivano portati avanti degli abusi sessuali che interessavano sia i religiosi che i militari eh in un clima di totale umiltà che in realtà è andato avanti per 30-40 anni eh e poi vabbè menziono anche eh il caso di delle ragazzine scomparsi in Vaticano negli anni Ottanta ehm Emanuele Orlandi mi sembra si chiamasse ehm insomma ci sono diversi punti di contatto eh oltre che col testo di Rigotti anche con la realtà vera e propria quindi l'influenza anche dei poteri religiosi si è costituiti su certo tipo di abusi eh che io nel nel primo capitolo analizzandolo eh retrocedo addirittura fino alle scuole residenziali canadesi che ehm è un fatto che gli studiosi io ho fatto la tesi sui diritti dei popoli nativi del Canada conoscono eh e tuttavia il grande pubblico non non ha la minima idea di cosa si tratti queste state sono uscite delle fosse comuni di queste scuole residenziali canadesi per i bambini indigeni eh e sono uscite centinaia di salme inumate ehm ovviamente la situazione è molto strana perché noi dobbiamo pensare che queste scuole residenziali sono state aperte nella seconda metà dell'ottocento e sono state chiuse solo nel 1970 qualcosa e di conseguenza per tutto questo tempo si sono protratti ehm delle delle gravi o delle gravissime violenze e abusi su bambini che non avevano un ehm un riscontro poi nella nella stampa o nei mass media eh di questi di quello che è successo a questi bambini in queste scuole residenziali per tutti questi decenni ne sappiamo pochissimo si è iniziato solo ultimamente a indagare su quanto su quanto accadeva in queste situazioni eh infatti poi c'è un'altra cosa molto interessante poi passiamo all'ultima domanda per concludere eh che infatti mh se da una parte c'è questa visione che tu eh hai elencato di eh cristianesimo dall'altra parte eh c'è anche un cristianesimo potremmo dire gnostico perché eh Rust Call in tutta la sua camera sfoglia con un solo letto e i i libri di criminologia eh però si stupisce il fatto che il suo collè abbia visto un crocifisso e lui gli dice appunto una visione potremmo dire meditativa profonda e eh anche metafisica della lui dice io non lo tengo lì perché sono cristiano come te ma lo tengo per una sorta di meditazione interior sul significato che ha la crocifissione di Gesù esattamente e questo ci dimostra le due differenze diciamo tra un cristianesimo ignostico puro tra virgolette e un cristianesimo moderno eh influenzato appunto dalla cultura e dalla società americana indubbiamente il discorso è che nel nel crocifisso Rascal vede una verità che va molto oltre la realtà storica del del Cristo eh o o i dogmi della chiesa eh cattolica o evangelica che che dirsi voglia eh vede proprio il simbolo appunto dell'uomo crocifisso nella materia nel piano sublunare da cui appunto deve evadere questo è il senso per farla molto breve anche questo è un simbolo ovviamente gnostico ehm per farla molto breve il la croce che è formata appunto da queste due linee che si incrociano quella verticale appunto la caduta dell'uomo sul nel piano sublunare e quella orizzontale appunto questa materia orizzontale che non non gli dà più appigli verticali assiali per ritrovare la dimensione divina perduta eh ed è vero anche che nella serie tv eh Rascal viene considerato una sorta di paria però è vero che eh i santi anticamente anche avevano una dimensione un po' eh ovviamente di distacco nel senso un po' una dimensione vera e propria di distacco eh dal sentire comune dal vivere comune cioè il santo è sempre stato un personaggio o un outsider un personaggio di limite in questo senso è anche chiuso su se stesso no la meditazione nel deserto dei santi dei mistici eh in questo senso la casa di Rascal che è tutta eh è tutta vuota non ci sono non c'è immobilia non c'è nulla eh e c'è questo crocifisso c'è le Upanishad sul tavolino eh e poi c'è questa questa stanza che poi è diventa il garage nell'ultimo eh nell'ultimo eh spazio temporale insomma in cui si divide la stagione eh questa questa sala in cui ci sono tutti questi simboli di carcosa del re in giallo eh e lui qua compie veramente una meditazione personale in questa stanza non non si tratta solo di risolvere un caso di trovare il colpevole che può essere una persona piuttosto che un'altra si tratta proprio di indagare ehm sul profondo della psiche umana diciamo sull'inconscio più profondo e più abissale e lui cerca di tirare in mezzo anche il collega Marti Arti in questa sua meditazione però anche qua appena Marti vede questo ehm questo garage addobbato in questa maniera insomma pensa che sia uno psicopatico anche se sa che questi tre filoni spazio temporali che si accavallano l'uno all'altro eh quindi passato una emissione del passato del passato antico del passato prossimo e poi del presente eh sì 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 eh sì sì interessante e comunque il rito adesso mi è venuto in mente si chiama rito della Shwameda sì è l'ultima domanda che ti vorrei fare che riguarda l'ultima parte del tuo eh libro è appunto eh quello che si chiederanno tutti sia chi ha visto la serie a sì che non la sia chi non l'ha vista sia chi ha letto il tuo libro sia chi non l'ha letto chi è alla fine Carcossa? Allora io parlando di Carcossa ovviamente mi richiamo a chi ha inventato questo termine cioè Ambrose Beers eh in un racconto del verso la fine dell'ottocento eh 1885 per esattezza eh che si intitola Un cittadino di Carcosa eh poi questa Carcosa viene eh ripresa da Robert Chambers nei suoi racconti del del ciclo del Rain Giallo ehm nell'idea di di Ambrose Beers Carcosa è questa dimensione eh al di fuori del nostro tempo del nostro spazio tempo eh in cui il personaggio il protagonista di questo racconto accede in seguito alla sua dipartita fisica eh e vengono poi sottolinea io sottolineo nel capitolo su Ambrose Beers dei rilievi simbolici che noi già possiamo trovare nell'opera di Beers ma è soprattutto Chambers che eh espande il significato simbolico di Carcosa perché vi lega questa personalità mitica il Rain Giallo che praticamente è una sorta di governatore di questa dimensione attemporale che però anticipa eh la la lo lo spazio tempo per cui noi lo conosciamo in maniera lineare eh ci sono alcuni alcuni passi dei racconti di Chambers in cui viene descritta questa Carcosa come eh una dimensione eh galattica potremmo dire perché vengono nominate eh oltre alle strane lune e alle stelle nere che tra l'altro una terminologia che ricorda le visioni di Hildegarda de Bingen ma vengono nominate anche due soli nel cielo alziché solo uno e poi viene nominata la levata di Aldebaran e delle Iadi quindi la costellazione del toro eh che anche qua Aldebaran nella storia diciamo recente di fino all'ottocento inizio novecento è stata molto legata a delle questioni di tipo teosofico ed occultistico nella Germania pre nazista eh dal cosiddetto gruppo Vril fondamentalmente Aldebaran era individuata come questa eh l'occhio del toro non la costellazione del toro eh da cui sarebbero provenute queste intelligenze cosmiche eh che sono al tempo stesso in inquadrabili come i maestri sconosciuti superiori sconosciuti della teosofia ma anche come entità terrifiche se vogliamo come lo stesso re in giallo di di Robert Chambers non si sa se Chambers conoscesse queste teorie ma è sicuro che Ambrose Bierce le conoscesse tanto è vero che scrisse un racconto ispirato a Madame Blavatsky con la Blavatsky come protagonista quindi vediamo che eh leggendo tra le righe si scopre che già personaggi come Ambrose Bierce e probabilmente anche Robert Chambers eh nei propri racconti fantastici eh inserivano delle suggestioni di tipo esoterico di tipo occultista occultistico che poi ha ripreso Lovecraft che poi ha ripreso Thomas Ligotti appunto riprendendo Lovecraft e che poi ha ripreso Nick Pizzolato nella prima stagione del serial. Per adesso ci siamo detti tutto spero che eh questa puntata abbia potuto ehm dare soprattutto ai fan della serie della prima stagione eh tutte le risposte che eh aspettavano o gli enigmi eh o i punti interrogativi che non avevano capito dalla serie dato che come abbiamo visto in questa puntata sono molti molteplici e eh alcuni eh anche difficili da comprendere da capire per il linguaggio che eh il protagonista usa e soprattutto per chi guarda la serie semplicemente come un poliziesco eh non conoscendo tutti i personaggi che tu hai citato eh e i libri eh a cui fa riferimento la serie. Io direi che detto questo ci possiamo salutare ringraziamo Marco per la splendida intervista per la delucidazione che ci ha dato sulla serie eh tv consigliamo il suo libro Cartossa svelata e direi che ci vediamo alla prossima. Grazie a te Riccardo dell'invito e grazie a tutti voi che avete seguito. Grazie a tutti i nostri spettatori e grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori